Manca solo il candidato del centrodestra, tra i principali concorrenti alla carica di sindaco di Sedriano e la battaglia elettorale potrebbe avere luogo fra tre candidati che sono già stati i primi cittadini. Il sindaco uscente del Movimento 5 Stelle Angelo Cipriani, Marco Re, sindaco di centrosinistra fra il 1992 e il 2004 e Alfredo Celeste, il quale il centrodestra Unito ha chiesto di ricandidarsi. Una scelta che Celeste non potrà compiere a cuor leggero, visto che poco più di sette anni fa, nel 2013, fu costretto a lasciare la carica di sindaco a seguito dello scioglimento per mafia del Comune, il primo in Lombardia, che venne poi commissariato per circa due anni prima delle elezioni che lessero Angelo Cipriani, primo sindaco del Movimento 5 Stelle in Lombardia. Celeste, presente all'incontro in cui è stata formulata la proposta, ha detto che ci avrebbe pensato e la sua risposta dovrebbe arrivare nel giro di poche settimane. Nell'ottobre 2012 Celeste fu sottoposto agli arresti domiciliari, assieme al boss dell'Andrangheta Eugenio Costantino, al medico politico Marco Scalambra e ad altre 18 persone. L'inchiesta su Sedriano da parte della Procura di Milano nacque dal lavoro dei magistrati, nell'inchiesta più articolata che aveva coinvolto la giunta di un altro Celeste, il governatore di Regione Lombardia Roberto Formigoni. Celeste, finito a processo per corruzione, fu assolto per insussistenza del fatto, ma il comune nel frattempo era stato commissariato e il procedimento amministrativo riguardante le infiltrazioni dell'Andrangheta negli uffici comunali andò avanti. Celeste non ebbe alcun vantaggio dai personaggi coinvolti nell'inchiesta, ma di fatto commise l'errore di permettergli di infiltrarsi nel comune che fu sciolto per mafia nel 2013. vedici Teresci